Hello Bell Guys, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso vi porto una delle decklist che mi avete richiesto, nello specifico Frog Monarch o, ancora meglio, Frog Dark Hero Monarch. Caso che comunque vogliate magari una versione più classica che non sfrutti il reparto hero, che magari può essere un po' corposo anche a livello economico, mentre una versione più classica anche più economica, magari scrivetemelo qui sotto nei commenti e proverò anche a portarvi quella lì. Comunque ho voluto portarvi questa versione qui, che potremmo definire un po' più alternativa, ecco, dato che dal mio punto di vista è un po' più varia e di conseguenza può offrire, diciamo, più giocate oltre a quella di Rana Monarcha, Rana Monarcha, ecco. Inoltre dà anche accesso al reparto sincro grazie al Plug Spreader Zombie, quindi magari, appunto, abbiamo più... concedetemi il termine combo. Proviamo ad andare un po' più nel dettaglio, così magari mi ricordo anche quello che devo dire. Quindi partiamo con 3 Kaius, che, vabbè, sono abbastanza stable, e 3 Ryza, che ha in effetto veramente ruttissimo, ragazzi. Non gioco il Testalos, dato che ho preferito dare spazio ad altro, dato che, appunto, anche il reparto possiamo definirlo Dark Hero, che va a occupare vari slot del mazzo. Tuttavia, ho deciso di giocarmi lui, che in un certo senso potremmo quasi definirlo MVP del mazzo, perché è una carta molto sottovalutata, secondo me. Cosa fa questo ragazzone? Non può essere evocato specialmente, essendo anche uno Spirit, durante l'end phase in cui è stato evocato formalmente o evocato per scoperta, ci ritorna in mano. Tuttavia, nel momento in cui questa carta viene evocata normalmente o per evocazione per scoperta, distrugge tutti i mostri scoperti dell'avversario, che capite che non è una cosa da poco. Certo, c'è il pericolo, dipende sia una Starlight, ma a quel punto, secondo sto ragionamento, non dovremmo giocare Ivi Storm o quant'altro. Per quanto riguarda invece il comparto rana, un po' classico, giochiamo queste tre bestiole, queste qui, due di queste, e due rana degli alberi. Allora, per quanto riguarda il reparto hero, diciamo qualcosa da dire, nel senso che la maggior parte delle versioni che giocano appunto Frog Hero Monarch vanno a giocare l'Alius e l'Oceano. Io vorrei proporvi appunto questa alternativa, anche perché vorrei evitare molte volte di portarvi una decklist molto simile, magari a quelle già esistenti, quindi portarvi qualcosa di concretamente mio, fatto da zero da me. Può essere anche interessante. Ovviamente io cerco sempre di darvi spunti, e ovviamente questa lista è tranquillamente migliorabile, secondo me non sono stato lì, non posso stare un mese a testare il mazzo per dire, ah no, fate questo, questo, questo. Però secondo me è una buona base da cui cominciare, ed è, secondo me, un approccio diverso e carino per il mazzo. Quindi, Tratos, due prodigi infernali e un Diamond Dude. Questo perché ho preferito giocare il Diamond Dude anziché magari Oceano, per il semplice fatto che è un target in più anche per Out of Darkness. Secondo me l'effetto non è nemmeno così malvagio. Certo, non andiamo a giocare un reparto magia così tanto corposo, però magari può essere forte se ci manda al cimitero, che ne so, una Tribune Frog o lo stesso Malisius. Se volete giocarlo, ovviamente questo è il mio parere, vi consiglierei di giocare con il reparto Trappole, per il semplice fatto che dovete avere degli scartini, appunto, per poterlo mandare al cimitero caso che dovesse capitarvi in mano. Altrimenti diventerebbe soltanto un mattone inutile nella mano e farebbe veramente schifo. Per seguendo poi abbiamo una Tragodia, un Gorz, questo per evitare magari OTK. Potreste eventualmente anche pensare di giocare i Battle Fader, che sono veramente forti per il mazzo monarca. Infatti, il gioco nella versione classica. E poi, come avevo accennato all'inizio del plug spreader zombie, per darvi, diciamo, accesso al reparto sincro. E infine, come mostro, un Dark Armed Dragon, che in un mazzo del genere, secondo me, effettivamente può essere definito Unexpected. Il reparto Dark, obiettivamente, è abbastanza corposo, quindi abbiamo modo di calarlo giù. È abbastanza facilmente ed è una delle carte più forti del formato Edison. Per quanto riguarda le magie, invece, abbiamo un Allure, dato che, sì, lo so che lo sto ripetendo più volte, i Dark nel mazzo ne sono abbastanza. Una Brain Control, una Heap Store, poi tre fusioni Miracle, appunto per Absolute Zero, che è una delle fusioni più forti del formato. Un Typhoon, one for one, che è broken, questa carta, definitivamente è broken. Poi se hai Malisius in mano, è veramente fortissima. E poi gioco un Rota. Allora, non gioco l'Emergency Call, per il fatto che uno ci va ad aggiungere soltanto un Elemental Hero. Quelli che sto giocando io sono praticamente Evil e Destiny. Potreste anche non giocare, però, secondo me, prima prendiamo Stratos, e meglio è, perché Stratos è una carta veramente... Beh, non gli puoi di niente a Stratos, obiettivamente. Inoltre, caso che, appunto, dovesse essere in mano, viene una carta gialla, oserei dire, magari possiamo scartarla di Phoenix Wing, Wind Blast, o Rageki Break. E appunto, per il reparto trap, le abbiamo tre di queste, una Rageki Break e una Dust Shot. Allora, sempre dal punto di vista economico, se la carta, appunto, non ve la potete permettere, io vi consiglierei di aggiungere la seconda Rageki Break. e, caso che, appunto, non lo so, vogliate giocare a 40 carte, semplicemente potete togliere una Dust Shot, o, ripeto, scusate se mi ripeto, o, caso che vogliate giocare 40 carte, ma con due Rageki Break, io vi consiglierei di magari togliere una Dust Shot, e, magari, una Tragodia, o, una Rode, o la Rode, se proprio, questo magari potreste spostarlo di side. Insomma, vedete voi, questa è la mia versione iniziale, migliorabile, ovviamente, sì. Per quanto riguarda l'Extra, vabbè, gioco un Chimeratech, re Absolute Zero, un Gaia, dato che gioco anche il Dark Spirit, può essere situazionale, però, secondo me, è forte, e, poi, come sincro, un Catastore, Armory Arm, Lecros Brion, a Colossal Fighter, un Dark and Dragon, visto che, appunto, il reparto Dark, è un Sanza Corposo, il Goyo, un Hurm, uno Stardust Dragon, e un Tottenhuler Archer. Per quanto riguarda il side, è vero che, ma giustamente, mi avete chiesto di portarvelo in, nei video. Tuttavia, ragazzi, io, ovviamente, posso darvi una buona base, secondo me, da qui cominciare per, assidare. Tuttavia, la cosa importante del side, secondo me, per fare un buon side, è che dovete considerare, varie cose, e due, nello specifico, sono le più importanti. Uno, dovete considerare i pro, e i contro del, del mazzo. Di conseguenza, potete sfruttare il side, per ovviare a quelle debolezze, magari il mazzo, dico cavolata, un mazzo vostro, soffre da, l'iceworn, allora, giocate gli specchi, in prigione a luce. Seconda cosa, seconda cosa, ma non meno importante, è che dovete considerare, i player, e i mazzi, che sono presenti, ai local, quanti ne siete, eccetera, nel senso che, facendo sempre l'esempio, molto scemo, nel local, giocano tutti, l'iceworn, o ce l'ho con l'iceworn, vabbè, l'iceworn è fatta, quindi sono tutti i mostri di luce, di conseguenza, fate 2 più 2, e allora dire, ok, forse è il caso, che giochi, specchi in prigione a luce di side, questo per farvi un esempio, molto stupido, quindi, sono due motivi, per cui, il side è molto variabile, e situazionale, per questo video, io vi riporto, due cyber draghi, due dd crow, che sono anche, ultimi in mirror match, Jinso, potreste anche giocarlo, di main, volendo, magari, cambiate il dark spirit, con questo, anche perché Jinso, è un target dark, quindi molto molto forte, davanti di sphiend, che potreste portare anche a 3, poi, sull'exchange, questa è una carta, secondo me, molto carina, la super poly, questa fortissima, magari anche contro, contro hero, potreste sfruttare i suoi mostri, per farvi absolute zero, ah, 3 twister, per il semplice fatto, contro potreste, la carta da cui soffre un sacco, questo mazzo, obiettivamente, è Mask of Restrict, di conseguenza, prima arriva questa, prima fate fuori il pericolo, questo appunto, è considerando i pro e contro del mazzo, e poi, secondo me, carta carina al giocare, sono i deck devastation virus, dato che, giochiamo, Gaios, sono oltre 2000, Ragodia, può arrivare oltre 2000, DAD in casi eccezionali, Gord, insomma, abbiamo target, per poterla utilizzare, volendo anche Jinso, i Vanity's Fiend, questo era tutto, ragazzi, da video, io spero che vi piaccia, questa versione, del, Frog Monarch, provatela, che è abbastanza divertente, e, ovviamente, continuo a testarla, anche giocando così, for fun, con alcuni, i miei amici, e, fatemi sapere, cosa ne pensate, qui sotto, nei commenti, prossima decklist, sarà, o l'Illaria Torbist, o, quella della Salt Magician, che mi hanno, mi avete chiesto, io vi ringrazio, come al solito, per aver guardato il video, fino a questo punto, lasciate sempre un mi piace, un commento, per potermi aiutare, a portare, maggiore di contenuti, grazie ancora, e ci vediamo, al prossimo video, see you next time.